Quattro persone denunciate a piede libero per guida in stato di brezza alcolica e tutti con un tasso alcolemico superiore a uno, mentre quello massimo consentito dalla legge per guidare è 0,49 grammi litro. E' l'esito dell'attesiva di controllo svolta nel weekend dalla polizia stadale di Agrigento. Gli uomini diretti al vicequestore aggiunto Andrea Morreale hanno eseguito poste di controllo e accertamenti tramite etilometro nelle principali strade della provincia. Il primo a cadere nella rete dei poliziotti è stato un giovane 24enne di Palma di Montechiaro controllato da una pattuglia mentre guidava in paese e è risultato positivo all'alcol test. Gli agenti sabato sera invece hanno denunciato un 43enne di San Giuseppe Iato in provincia di Palermo e una ragazza di 32 anni di Favara entrambi fermati nei pressi della stazione centrale di Agrigento e sottoposti all'etilometro. Denunciata per guida in stato d'ebrezza anche la ragazza, 22enne di Agrigento, che la notte tra sabato e domenica era alla guida della sua Volkswagen Polo quando per motivi ancora poco chiari si è capovolta al centro della carreggiata lungo il viale delle Dune a San Leone. L'intervento degli agenti della posta ha consentito di sottoporre la giovane automobilista al test del etilometro che ha dato esito positivo. Anche per lei quindi denuncia a piede libero alla procura della Repubblica di Agrigento è inevitabile ritiro della patente. Grazie a tutti.